Presidente, quanto è importante un festival della statistica e della demografia per far conoscere queste discipline al pubblico e ai pubblici più diversi? È importante perché è un'occasione per uscire tra la gente, cioè cercare di far capire che la statistica, la demografia come statistica applicata, cioè questo tipo di discipline fatte con i numeri, non sono qualcosa di pericoloso ma sono uno strumento che aiuta a conoscere meglio il mondo in cui viviamo, a identificare i problemi, a trovare anche le soluzioni e come dice il titolo stesso del festival, ad aiutarci a fare delle scelte per un futuro migliore. Perché il tema della demografia e della statistica è così al centro oggi del dibattito e delle decisioni politiche e sociali? Perché forse abbiamo sempre più consapevolezza che per poter decidere bisogna conoscere e bisogna conoscere in un mondo molto vario come quello attuale, bisogna conoscere però con capacità di sapere la realtà vera e quindi il discorso delle fake news, cioè tutte queste cose che inevitabilmente rispetto al passato sono cresciute, ebbene con una conoscenza statistica, con gli strumenti e con una capacità critica migliore, noi siamo più in grado, forse rispetto al passato e vorremmo esserlo sempre più, in grado di identificare ciò che va compreso e ciò che no, quando ci dicono la verità e quando non ce la dicono e quindi farci un'idea che sia il più possibile vicina alla realtà vera.